Quali sono i passaggi principali che si devono seguire quando si fa il frazionamento di un immobile? Mi riferisco alle operazioni immobiliari dove si acquista un'unità e si trasforma in più unità. Certo ci sono diverse tecniche e diverse metodologie per affrontare questo tipo di attività, io ti voglio dare semplicemente sette passaggi che utilizzo sempre quando mi trovo a svolgere un'operazione di frazionamento. Il primo naturalmente è la visita, il momento nel quale vai a vedere l'immobile, il momento nel quale valuti naturalmente la zona, il momento nel quale valuti anche le potenzialità di quell'immobile, perché spesso ci si trova a comprare magari degli immobili che sono magari al piano terra, magari a volte si fa anche un cambio di destinazione d'uso, o a volte sono già abitativi però magari sono una superficie molto grande e si intende frazionarla. Quindi nel momento in cui si va a vedere l'immobile si devono capire quali sono le potenzialità dello stesso, perché questo ci permetterà poi di avere la nostra visione e di capire come sviluppare l'operazione. Quindi durante la visita, oltre al taglio e le potenzialità dell'immobile, si valuterà anche quale potrebbe essere la cifra di rivendita, questo è decisamente importante, bisogna capire quanto potremmo realizzare dopo aver frazionato, ridistribuito gli ambienti all'interno e creato più unità. Il secondo sono i documenti, qui devi chiedere naturalmente all'agente immobiliare la dove tu stia acquistando con l'agente immobiliare, magari se stai acquistando da privato dovrai chiederlo a privato, però dovrai capire qual è la provenienza dell'immobile, dovrai vedere la visura, catastale e ipotecarie per capire se ci sono gravami sull'immobile, insomma hai bisogno di raccogliere tutta quanta la documentazione per fare un'analisi precisa. Il terzo è il rilievo, dopo aver recuperato la documentazione di cui ti ho appena parlato è necessario mandare uno dei tuoi professionisti, che può essere un geometra piuttosto che un architetto o un ingegnere, a fare un rilievo della superficie reale, quindi devi capire esattamente quelli che sono gli apporti illuminanti, quelle che sono le dimensioni di pavimento, i muri, insomma tutto quanto. Il professionista preparerà normalmente un file dvg. Io ti consiglio se non utilizzi i file in dvg di farti preparare due file, uno in dvg che servirà poi per sviluppare il lavoro, ma uno in pdf di modo che tu possa anche vedere realmente quello che è lo stato di fatto e la planimetria. Il quarto è la valutazione. Il professionista che ha fatto il rilievo oppure ne puoi utilizzare un altro, questo dipende molto da come tu sei organizzato, dovresti mandarlo in comune per capire esattamente se si può fare questo tipo di frazionamento. Nella maggior parte dei casi è possibile, però è giusto controllare. Un altro passaggio che ti suggerisco di fare, che ritengo sia molto importante, è quello di verificare il regolamento di condominio. Sono rari i casi, però in alcuni contesti il comune ti permette di fare il frazionamento, ma il condominio no. Quindi devi saperlo prima, perché ti devi poter fermare prima di aver iniziato una procedura di questo tipo, perché comunque potresti incorrere con grandissime problematiche in futuro. Quindi occhio, verifica sempre in comune la situazione. Il quinto è il progetto. In questa fase si definirà quante unità usciranno, come saranno tagliate, come saranno distribuite. Se non hai molta esperienza ti suggerisco di appoggiarti a uno o più agenti immobiliari sul territorio che ti possano dire quali sono esattamente i tagli che funzionano meglio. Quindi questo ti farà fare delle scelte piuttosto che altre. Se non hai competenza appoggiati a qualcuno che ti possa dare aiuto e sostegno in questa direzione. Ritengo sia veramente molto importante stabilire il giusto taglio, perché questo potrebbe compromettere o migliorare la vendita. Il sesto è il conto economico, momento nel quale si mettono i numeri su carta, momento nel quale dovrai stabilire esattamente quello che è il prezzo di rivendita del tuo immobile e definirai quante unità verranno create, quali saranno i prezzi, come dicevo, di rivendita e da lì vai a togliere tutti quelli che saranno i costi e anche il guadagno che vuoi ottenere. La cifra che rimane sarà la cifra che potrai offrire come proposta d'acquisto. Il settimo è proprio la proposta, momento nel quale andrai a formulare la tua offerta al venditore. Se hai seguito i punti precedenti sicuramente sarai allineato e starai andando sulla strada giusta, però ti suggerisco comunque di mettere una clausola sospensiva per avere la certezza che potrai fare il frazionamento che hai in mente. Questo è un passaggio decisamente delicato ma molto importante. Investire in immobili è una questione di metodo, di strategia e di applicazione delle strategie. Ricorda che se vuoi prosperare in questo tipo di attività dovrai fare tutti i passaggi sempre in modo specifico e coscienzioso. Se tu salti dei passaggi ti prendi dei rischi e questi rischi possono portarti a fare errori e questi errori a perdere denaro. Quindi il mio suggerimento è quello di prepararti una bella checklist, spuntare proprio voce per voce tutti i passaggi per arrivare in fondo in maniera serena e tranquilla.